Il terremoto ha colpito il Molise quel 31 ottobre del 2002 perché è sopravvissuta al crollo della scuola jovene di San Giuliano di Puglia, Veronica D'Ascenso, 24 anni, ha adesso conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, dedicando la sua tesi proprio agli amici e alla maestra che non ci sono più alla discussione. Hanno partecipato anche l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso e l'attuale responsabile del dipartimento Angelo Borrelli. Sentiamo il servizio e vediamo il servizio di Fabrizio Chionero. Un percorso consapevole di rinascita, l'impegno per promuovere la cultura della sicurezza e valori significativi da spendere nel rapporto con gli alunni, facendo leva sul ruolo e sull'approccio dell'insegnante in contesti di emergenza. Sopravvissuta al crollo della scuola jovene di San Giuliano di Puglia, Veronica D'Ascenso, 24 anni, si è laureata in scienze della formazione primaria all'Università Lumsa di Roma. In quella tragedia ha perso 27 amici, tra i quali il cugino Luigi e la maestra Carmela, custodendo i loro volti sempre nel cuore e nella mente, con il desiderio, maturato nel tempo, di voler fare qualcosa per ricordarli, affrontare le possibili conseguenze per chi continua a camminare lungo il percorso della vita, proprio perché l'elemento più fragile in questi contesti risulta il bambino e va protetto e accompagnato nel ritorno graduale a una vita normale. Nella sua tesi dedicata a Luigi, insieme ai compagni e alla maestra, a chi non ci sono più, Veronica ha trattato questi argomenti, il disturbo post-traumatico da stress, il ruolo della protezione civile nell'organizzare i servizi che servono alla comunità, le buone pratiche laboratoriali che favoriscono un clima di serenità per la ripresa delle attività come musicoterapia e arte e immagine, una didattica positiva, la pedagogia dell'emergenza, con protocolli precisi, suggerimenti da dare all'insegnante prima di entrare in una classe sotto una tenda in una struttura di legno. Ad assistere alla discussione di laurea, insieme alla famiglia e agli amici, c'erano Guido Bertolaso, già capo della protezione civile proprio nel terremoto di San Giuliano di Puglia, e Angelo Borrelli, attuale responsabile del Dipartimento, da sempre vicini all'intera comunità. Persone che Veronica ha incontrato lungo questo percorso e che, a sorpresa, hanno voluto esserci per condividere con Mossi un traguardo raggiunto in un giorno speciale, quello che da maestra la vedrà tra i banchi per formare e accogliere le nuove generazioni, con rinnovata gioia di vivere, competenza e responsabilità. E cambiamo argomento, torniamo adesso a parlare dello spettacolo teatrale di Mena Vaselino, ti amo da morirne, una dura e ferma condanna della violenza di genere. Ebbene, l'autrice ricorda che adesso la rappresentazione può essere acquistata ed è disponibile su internet e parte del ricavato dell'acquisto servirà per scopi umanitari e benefici. In ultimo, una iniziativa che riguarda bambini e ragazzi del Camerun e ce ne parla in questo servizio Tonino Danesa. Ti amo da morirne è una rappresentazione teatrale di grande impatto, una ferma, decisa, fortissima condanna alla violenza di genere. L'ha realizzata totalmente l'attrice e il regista Mena Vaselino, mettendoci anima, cuore, corpo e voce. Una rappresentazione teatrale che ha una notevole potenza emotiva e che Vaselino ha portato e porta con successo in scuole e teatri e ha ricevuto prestigiosi premi, ma che è fruibile anche su internet con uno scopo sociale ben preciso. Voglio ribadirlo ancora una volta perché forse a volte non è chiaro. Sì, io per poterlo far vedere ovunque l'ho caricato su un sito web www.tiamodamorirne.com È anche tradotto in quattro lingue, è anche sottotitolato in italiano per i non udenti. Sul sito si acquista la visualizzazione, che è di 20 euro, e parte di questi ricavati vanno in beneficenza alle associazioni che trovate all'interno del sito. Mena Vaselino ha adesso abbracciato anche un'altra campagna sociale benefica. Mi preme dire che ho conosciuto di recente l'associazione Teleschi qui a Campobasso, che si occupa di solidarietà e mi ha fatto conoscere la realtà di Suor Filomena Zappone, una suora molisana che vive in Camerun e che aiuta gli orfani e le ragazze e che in questo periodo, come forse anche in altri periodi e come forse anche in futuro, ha bisogno del nostro aiuto per la sua mission nei confronti di questi ragazzi. e io ho pensato che era doveroso e giusto metterle a disposizione anche il mio progetto. Per cui chi visualizza, chi acquista lo spettacolo sul web può anche donare a Molise Solidarietà e Cultura e i fondi andranno a Suor Filomena. Ovviamente io, per chi lo vuole, continuo anche a farlo dal vivo lo spettacolo. Il web era un modo per farlo arrivare ovunque perché non si muore d'amore, si muore di violenza e oggi a morire, oltre alle donne, spesso sono anche i figli. Ed è tutto per il nostro Tg del mattino. La rassegna stampa adesso che andiamo ad iniziare andando a vedere l'ompece del giornale del Molise.it l'apertura a Santa Croce di Magliano scomparso un uomo di 57 anni, ricerche in corso. È avvenuto il fatto sabato mattina, almeno da sabato mattina non si hanno più notizie, sono in corso appunto ricerche. La molisana Sara Ciocca, protagonista della nuova commedia di Alessandro Siani per quanto riguarda il cinema. Poi ancora l'incidente sulla statale 17 all'altezza di Boiano. Ricordiamo due morti e tre feriti. Purtroppo in prognosi riservata un ragazzo di 15 anni e la nonna. Venafro, Alfredo Licci, esulta 8 milioni ottenuti in pochi giorni dalla mia amministrazione. Poi Toma, il governatore del Molise, dice che il centrodestra deve rimanere unito e coeso. Solo così si vince contratto di sviluppo. Poi la firma in settimana con la partecipazione del premier Giuseppe Conte. Giudizi favorevoli, ma anche critiche. Poi a seguire gli altri titoli del giornale del Molise.it. Vi segnalo come di consueto le sezioni editoriali dei d'opinioni. Con la presentazione a Roma lo ricordiamo di ridare la cicuta a Socrate, libro di Adele, Faralacce e D'Antonella Presutti e poi le sezioni con le notizie dalla Regione e dall'Italia. Andiamo a vedere adesso il quotidiano in edicola, primo piano Molise con il quotidiano del Molise. L'apertura dell'edizione di oggi è questa, il futuro infermiere. un ex poliziotto vite spezzate sulla statale killer. Boiano sotto shock dopo il terribile incidente di sabato sera. Gennaro Caraviello, l'aspirante infermiere, appunto il ragazzo è morto a 21 anni. Antonio Angelini ne aveva 77. Gravissimo nipote adolescente dell'uomo. Dal calcio alle feste la città si ferma per la tragedia. E poi c'è l'editoriale a firma di Pasquale Damiani, il PD ad un bivio fra resistenza e frattura. Santa Croce, da due giorni non si sa più nulla di lui, ore d'ansia per un uomo di 57 anni. E poi Campobasso, sicurezza sul lavoro allarmante, il dato di infortuni e decessi. San Vincenzo, monastero, ma pure forni per vetre e metalli. Lo scavo scopre nuovi tesori nel sito archeologico, che è quello di San Vincenzo. E poi la finestra sullo sport. Lupi, il Campobasso calcio di Serie D. Lupi, nota sonata, Cudini resta. I tifosi lasciano lo stadio per protesta. Il tecnico avrà un'altra chance. Il Vasso Girardi intanto non smette di stupire. L'Olimpia agnonese a gonfie vele. Colpo giallo-cereste all'Aragona. Igranata piegano il Fiuggi. Per quanto riguarda l'eccellenza, Isernia fatica, Gullonesi pari, Parano vince, Rocca sicuro ok. Promozione, Vetta Maronea, Triscalena, Clivento sorride, Urlo Carovilli. Per il basket, riscatto per il Globo. Isernia resa Venafro contro il Bellizzi. Uno sguardo anche ai titoli del quotidiano telematico futuro Molise. C'è la cronaca con il tragico incidente sulla statale. 17 all'altezza di Boiano. Due morti e tre feriti. Non si arresta la scia di sangue sulle strade molisane. Iniziati poi i lavori di manutenzione straordinaria del cimiterio a Iserde, ad annunciarlo l'assessore comunale Dall'Olio. Regione presentata dal consigliere Romagnolo. Una proposta di legge a tutela delle persone anziane. E poi il roadshow per l'internazionalizzazione e conferenza stampa a Palazzo Vitale questa mattina. Poi Fornelli, la domenica nel Borgo, sommersa dai libri con i giovani studenti che fanno da Cicerone ai turisti, cui ha giornate di cooperazione all'Unimol. Poi la prevenzione delle malattie cardiovascolari. visite gratuite in piazza Andrea di Sernia nei giorni del 7, 8 e 9 novembre. Una a tre giorni dunque. Apertura intanto col botto per la quinta edizione dell'Octoberfest montaganense. E poi a seguire vedete gli altri titoli di Futuro Molise. Passiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Si parla ovviamente del DEF, della prossima manovra finanziaria. ma anche di quanto sta avvenendo in Siria, nel Kurdistan, per quanto riguarda gli esteri. Ma andiamo a vedere i titoli. Il Corriere della Sera, Siria, l'America si ritira. Centinaia dell'Isis fuggiti dalle celle in Italia al caso delle armi ai turchi. E poi, per quanto riguarda la manovra, scontro su tasse e pensioni, vertici di maggioranza. Contre critica il leader del Movimento 5 Stelle, troppo timido sui contanti. I renziani di Italia Viva. Abolire quota 100 di Maio io non farò mai come Fornero. Fa sapere il capo politico del Movimento 5 Stelle. Andiamo intanto a vedere anche la prima di Repubblica. Fra i tei litiganti, l'Italia non gode per quanto riguarda la politica interna. Repubblica parla di manovra nel caos. Movimento 5 Stelle e PD spaccati su tutto. I renziani chiedono l'abolizione di quota 100. Il tesoro insiste. Via il super ticket sanitario. E sì, al taglio del cuneo fiscale. E poi gli esteri Erdogan bombe sui giornalisti Assad, intanto in aiuto ai kurdi. Colpito un convoglio, almeno due vittime, uccisa in strada, paladina dei diritti umani. Il mattino di Napoli apre così De Luca Di Maio avvisa il PD, il capo politico del 5 Stelle. C'è stata la festa per i dieci anni del Movimento a Napoli. In questo fine settimana, in questo caso, in questa occasione, il capo Di Maio del Movimento 5 Stelle dice con il governatore Manco Persogno, no ad alleanze sia ai patti civici. Magli lo insiste. Con i democratici, sintonia perfetta. Movimento intanto diviso sulla riorganizzazione. E poi anche qui la guerra. Erdogan, l'embargo sulle armi non ci fermerà. Kurdi assaldi intanto il patto contro la Turchia. E poi vedete ancora questo titolo. Costo del lavoro e pensioni liti nel governo. I renziani dicono quota 100 va bloccata subito. Il no del Movimento 5 Stelle. Intanto tasse sulle sim dei cellulari. E quindi ancora una novità. Il fatto quotidiano. Manette agli evasori. E quanto ha annunciato Di Maio a Napoli. Di Maio appunto pressa il PD. E il decreto legge fisco slitta. I 5 Stelle per quanto riguarda la manovra si impuntano. Oggi in Consiglio dei Ministri. Solo il piano da inviare all'Unione Europea. E poi sotto la testata. Guerra in famiglia. De Benedetti rivuole Repubblica. Dai figli. A prezzo stracciato. Ultradestra. L'Europoliterroristi neri. Arruolano soldati ed agenti della Polizia. Poi ancora vediamo questo titolo in evidenza sul fatto quotidiano. Bombe. In Siria i kurdi resistono e cercano l'aiuto rosso. Attacco turco. Già 140 mila sfollati. Dal fatto quotidiano andiamo a vedere anche la prima del secolo. Il PD si volta. Questa è la foto di Filippo Roma delle Iene. Il linciaggio sarebbe avvenuto a Napoli in occasione della festa del Movimento 5 Stelle. Grillini scatenati contro un giornalista. Ma stavolta non si vedono saluti romani e stanno quasi tutti zitti. Questa è la visione del secolo. Poi in primo piano la morgese chiava l'Europa. Bozza di Malta era fuffa. Libero insulto grillino anche contro la maglia. E poi meloni con i carabinieri. Punire chi li insulta. I titoli in evidenza sul secolo.it. Vediamo anche quelli della verità. L'apertura è questa. Il governo svela il suo blef. Secondo la verità sull'immigrati l'Italia è sola. Le chiacchiere non arginano gli sbarchi. Il ministro dell'interno la morgese si appella all'Europa per la crisi turca. Ed implora non abbandonateci. Poche settimane fa lei e Conte avevano spacciato l'accordo di Malta come una svolta. Ma è un ritorno al passato. E poi anche qui De Benedetti ha 84 anni. Rivuole Repubblica e va in guerra con i figli. E a centropagina il titolo in evidenza. Fai da fratoghe dopo l'elezione al CSM. Le suppletive elezioni. Ovviamente riaccendono le liti fra correnti. Una giudice dell'antimafia dice Di Matteo non è uno di noi. E poi Rita dalla Chiesa. Saviano e Rubio contro i poliziotti. Quanti poveracci fa sapere. Rita dalla Chiesa. Adesso la prima pagina della stampa di Torino. Che apre così nell'edizione di oggi. Evasione, gelo tra Conte e Di Maio. Si parla sempre di manovra. Il governo a caccia di 3 miliardi rispuntano tasse sulle SIM. Come taglio alle detrazioni IRPEF. Il leader del Movimento 5 Stelle frena sull'uso delle carte. Italia Viva dice via. Quota 100. Vertice notturno. Oggi il testo all'Unione Europea. E poi la decisione della provincia autonoma di Bolzano. Bolzano shock. Non siamo più alto adice. Cancellare le parole è un omicidio. Poi vediamo ancora l'attacco turco in Siria. Curdi accerchiati ed Assad invia i soldati a Coban. Nell'intervista Miniti si riapre. La rotta balcanica a rischio Giaisti. Per quanto riguarda i titoli principali della stampa. Andiamo a vedere anche quelli di Libero. L'apertura a tutta pagina è questa. Salvini seduce Silvio. Tutti insieme appassionatamente a destra. Berlusconi andrà in piazza con Matteo e Lameloni. Sabato a Roma contro un esecutivo Tassa e a Manetta. Così viene definito il più comunista di sempre. Niente bandiere di partito, solo tricolori. La leghista Bergonzoni intanto dice se vinco in Emilia parte la rivoluzione. E poi i giocatori fanno il saluto militare in onore di Erdogan. La UEFA cacci la nazionale turca che tifa la guerra. Scrive e titola Libero. Poi a centropagina offerta dell'ingegnere respinta da Cire. De Benedetti vuole Repubblica. I figli lo mandano al diavolo. E poi c'è il fondo di Vittorio Feltri. Il crocifisso è un simbolo da difendere. Vile chi lo contesta. Scrive appunto Vittorio Feltri in questo articolo di fondo da Libero. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Messaggero di Roma che sulla manovra titola così come gli altri quotidiani del resto. Quota 100 e lavoro lite nel governo. Poi c'è la fotonotizia che riguarda quanto sta avvenendo nel Kurdistan. Erdogan l'embargo non ci fermerà. Merkel e Macron. Ritiratevi i kurdi con Assad alleati contro la Turchia. E poi si parla anche dei comuni che sono verso la paralisi. La metà è senza segretario. Sono 1729 le sedi scoperte. Molte governano più di un municipio. Record disagi in Abruzzo. C'è anche questo approfondimento sulla prima pagina del Messaggero. Vediamo allora l'altro quotidiano di Roma al tempo. Blitz su Cosa 100 torna la Fornero uniti dall'odio verso Salvini per quanto riguarda le invenzioni sia il PD che Renzi rivolgono le regole dell'era Monti. Scrive il tempo. Salta la possibilità di smettere prima. Si allontana per tutti. Il traguardo sognato per una vita. E poi a Napoli ha aggredito l'inviato delle Iene. Dagli al cronista e 5 stelle come alle origini. E poi anche qui si parla della maxirissa per quanto riguarda la proprietà di Repubblica. Ovviamente una maxirissa a colpi di pretese e di carte bollate. A questo punto e poi anche questo titolo rischiano 40.000 imprese, aziende romane in crisi con il blocco dei diesel. Erano i titoli del tempo. Vediamo adesso in chiusura anche quelli sulla prima pagina di oggi della Gazzetta dello Sporti. Come il quotidiano sportivo apre così. L'Inter riparte alla carica. Conte, Juve non mollo, dice il tecnico nerazzurro. E poi si parla della Formula 1. Ferrari che pasticci in Giappone. Suzuki, Bottas vinge. Montiale ai tedeschi per quanto riguarda per il momento quello costruttori. Mercedes nella storia. E poi sabato il primato. Kip Koje fra gli uomini. Maratone a tutto Kenya. Koskei e Miss Record. Poi casa Buffoni. L'area Gigi, quelle parate pure di notte. E ancora abbiamo il titolo in basso. Milan. Berlusconi attacca Gazzidis. Mercato, idea. Eleni a centrocampo per gennaio. Donne, rosso-nero. Il primo derby. La Serie D lo dica all'accesso con me. Il club di nuovo grande, dice Berlusconi. E poi domani in Liechtenstein. Ora l'obiettivo di Mancini è l'Italia. Testa di serie all'europeo. E poi solo in Francia giocano di più. Da Castrovilli a Cumbulla. La A torna un trampolino per i giovani. E con la Gazzetta Sportiva chiudiamo la rassegna dei nostri quotidiani. Adesso spazio alla redazione sportiva con gli Highlights. risultati della settima giornata nel campionato di serie di Girone F. Matelica-San Giustese 0-1 Montegiorgio-Chieti 1-1 Olimpia-Agnonese Fiuggi 2-1 Pineto-Jesina 2-0 Re Canatese-Avezzano 1-0 Sant'Elpidio-Campobasso 2-1 San Marino-Real Giulianova 2-3 Tolentino-Notaresco 0-1 Bastese-Vasto-Girardi 2-3 Ed ora passiamo alla classifica del campionato di serie D in testa a quota 18 punti Notaresco e Re Canatese a seguire Vasto-Girardi e Sant'Elpidio a quota 13 Pineto e Montegiorgio a quota 11 punti Vastese e Chieti a 10 Matelica Olimpia-Agnonese e Real Giulianova a quota 9 San Giustese e Campobasso a 8 punti Tolentino ed Avezzano a 7 Fiuggi a 5 Chiudono la Jesina ed il San Marino con 2 punti Bella importante vittoria da parte del Vasto-Girardi che passa sul campo del Vastese il gol di Gentile che apre il confronto dopo 8 giri di lancette il suo diagonale in corsa che coglie in preparato di Renzo per il gol del vantaggio passano 10 minuti e Petrone costruisce sull'auti sinistra il cross a rientrare dove Lepora Lepora sbuca dietro i difensori del Vastese per scaricare in rete il gol del 2 a 0 Vastese che non ci sta e riesce a trovare su calcio di rigore per una trattenuta in area di rigore riesce a trovare il gol che potrebbe riaprire la partita ma la conclusione di Dos Santos si spegne sul palo per tornare di nuovo sul rettangolo del gioco il gol nell'aria per la squadra di casa arriva esattamente al minuto numero 39 su questo lungo lancio per Dos Santos che carica il sinistro su cui nulla può caparlo per il gol del 2 a 1 al ventesimo c'è un contatto in area da parte di Pompei sotto lo sguardo del direttore di gara che concede il penalty Kiri Matenga riesce a spiazzare di Renzio per il gol del 3 a 1 quello della sicurezza a nulla vale la gran sgroppata di Pollage sulla corsia di destra per il cross in area di rigore con il controllo volante di Alonzi che si gira bene scarica in rete il gol che rende solo meno amara la sconfitta per la vastese al secondo minuto di gioco Lagnone passa in vantaggio con Minacori servito da Coni al trentatresimo il Fiuggi ristabilisce la parità in campo con D'Andrea che tutto solo approfitta anche della distrazione della difesa avversaria al quinto minuto del secondo tempo a costa dal limite dell'aria lunga le distanze Olimpia Gnonese batte Atletico Terme-Fiuggi per 2 a 1 Il Campobasso perde ancora fuori casa stavolta sul neutro di Monte San Giusto contro il porto Sant'Elpidio 2 a 1 Marchigiani in vantaggio nel primo tempo con Maio che si fa tutta la metà campo rosso-blu prima di trafiggere il portiere Natale nella ripresa il temporaneo pareggio del Campobasso cross dalla sinistra colpo di testa di Giampaolo va al volo Bontà 1 a 1 parziale il definitivo 2 a 1 in favore dei Marchigiani sarà di Cucu su calcio di rigore Campobasso che perde per la seconda volta consecutiva lontano da Selvapiana Benafro Acli Campo di Pietra 4 a 1 Boiano Baranello Rinviata Comprensorio Vairano Termoli 2 a 1 Gambatesa Roccasicura 1 a 3 Isernia Campobasso 1919 1 a 0 Pietra Montecorvino Aurora Capriatese 1 a 4 Real Guionesi Sesto Campano 3 a 3 Treppini Matese Alife 2 a 0 E alla luce di questi risultati diamo uno sguardo alla classifica del campionato di eccellenza Treppini Matese in testa con 18 punti a seguire Comprensorio Vairano 16 Venafro 15 Roccasicura 13 Acli Campo di Pietra 12 Isernia Sesto Campano Real Guionesi a quota 10 Termoli 9 Baranello 7 Gambatese d'Aurora Capriatese a quota 6 punti Pietramonte Corvino 4 Boiano 1 Chiudono con 0 punti Campobasso 1919 E da Alife Ed è tutto per questo nostro primo appuntamento con l'informazione Informazione di Telemuise che torna in diretta alle 14 con il telegiornale A voi tutte e tutti Buona giornata Buona giornata ULste Poi 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 Poi